Adesso canterà il balletto. Ecco, canterà il ball... come canterà il balletto? Sarebbe come dire... canterà il balletto. Sarebbe come dire rullerà l'arpa. Ma insomma, perché la gente si vuole mettere sempre a fare il mestiere degli altri? Poi è così che succedono le rivoluzioni, le bombe, i petardi. No, no, non va. Pensa se Giorgio Gaber e la Milva si mettessero a fare la danza classica. Giorgio Gaber. Non male. Che anziché la gamba adopera il naso. Non è possibile. E pensa, è allora la fracce. Fracce cosa? La fracce. Prende la chitarra e un bel giorno si mette a recitare il meteorolino bollettogico. Il bollettone... Il bollettone. Il bollettino meteorologico. Meteorologico, sì. Insomma, non si può fare niente per evitare questa catastrofe. Non si può fare niente, mi spiace. Non si può fare niente? No.